abbiamo avuto soddisfazione smutandati in assembramento a tutte le auto a tutte le auto rifornimento bibide in corso rifornimento in corso rifornimento bibide in corso ma i turni da ora ancora finiscono sono neppure i cinque c'è zona franca c'è zona franca fraschetti a tutte le auto a tutte le auto a tutte le auto smutandati in movimento smutandati in movimento a tutte le auto mi raccomando state tutti a casa tutte ricoverate state assessore sto in diretta sto in diretta si 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 tutto a posto però qui gli smutandati gli smutandati guarda è un festival è un festival via diaz via senni pincetto a villa torlonia e lui ci è posto gli è passata la fame col prosciutto la sede col prosciutto ciao grazie ciao grazie ciao grazie assembramento smutandati in corso al pincetto ce ne stanno 5 o 6 dai che stasera nonno lo infettiamo forza dai